che palle 10 secondi su su se non toccano il carretto passata rapido play of the game appena fatta bellissima urti quella di zaria vi amo ragazzi qui c'è un po' di cosciame in quegli ulti tutti e c'avevo l'ulti mia guardalo mamma mia porco cane eh no qui te la meriti grazie matte grazie mille quella è la cosa che aspettavo da tanto tutti nei cinni con l'ulti app la piazzi sul culo del primo bello bling bling